Un giorno la politica è entrata nella quotidianità della sclerosi laterale amiotrofica. Renato Balduzzi e Delsa Fornero si sono recati a Monserrato, in provincia di Cagliari, a casa di Salvatore Usala, segretario nazionale del comitato 16 novembre ONLUS, associazione che riunisce le persone malate di SLA. Una visita in qualche modo strappata ai titolari dei dicasteri della salute e delle politiche sociali. Il 21 ottobre scorso, infatti, 70.000 disabili aderenti al comitato hanno iniziato uno sciopero della fame e dei farmaci per protestare contro il governo, accusato di aver trasferito le risorse a loro destinate in un fondo, finalizzato anche a famiglia e scuola, disperdendo in questo modo le risorse. Dopo sei giorni di sciopero, il ministro Fornero ha ascoltato le voci degli ammalati, dicendosi disponibili a recarsi personalmente nella sede del comitato, ovvero a casa del segretario nazionale. Una promessa mantenuta oggi pomeriggio, in cui Elsa Fornero, insieme al ministro della salute, ha barcato la soglia di casa Usala, dove ad accoglierli ha trovato Salvatore, non a letto, ma seduto davanti al monitor che gli consente di comunicare. Accanto a lui la moglie, Giuseppina, che da sette anni lotta per garantire non solo le migliori terapie, ma un contesto di relazione e sociale che sia da supporto. Le condizioni poste dal comitato 16 novembre per interrompere lo sciopero erano chiare. Il fondo, non autosufficienza, deve essere di almeno 400 milioni e deve essere dedicato prevalentemente per disabili gravi, oltre che blindato sugli obiettivi. Inoltre il comitato aveva chiesto al governo di esaminare la fattibilità del progetto Restare a Casa, che ha come cardine la cura del malato nella propria casa con i familiari. Insieme ai due ministri, a Casa Usala, anche il governatore della Sardegna, Ugo Capellacci, e l'assessore regionale alla sanità, Simona De Francisci, ulteriore testimonianza della vicinanza delle istituzioni. Chi mi ama mi segue è il motto di Salvatore, che oggi forse avrà fatto sentire più amati gli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica.